Ragazzi prima di cominciare con il video voglio ricordarvi che abbiamo ripreso le giveaway dove regaliamo criptovalute gratis e quindi ogni lunedì annunceremo un nuovo vincitore della giveaway e spiegherò in qualsiasi momento durante il video come partecipare, quindi seguite il video fino in fondo e buona fortuna a tutti. E voglio anche ringraziare tutte e quante le persone che si sono iscritte al canale e se siete nuovi e potreste considerare l'iscrizione se non l'avete già fatto sarebbe assolutamente fantastico e quindi grazie mille e buona fortuna a tutti per la giveaway e adesso cominciamo con il video. In passato ho parlato di progetti di NFT diversi e alcuni dei più popolari sono quelli che offrono NFT che sono collegati o possono essere scambiati per qualche tipo di oggetto fisico o opera d'arte e alcuni di voi ragazzi ricorderanno che è un progetto come questo che ho condiviso con tutti quanti voi qualche mese fa ed è stata la collezione di Lugia vandalizzata da parte di OneMizer e questa collezione è stata pubblicata il 22 di dicembre ed è stata esaurita in soli 9 minuti per vedere il clamore intorno alla collezione e del futuro nello spazio degli NFT per OneMizer. E oggi ragazzi condividerò con tutti quanti voi i dettagli della seconda collezione da parte di OneMizer che sarà pubblicata invece il 17 marzo come possiamo vedere appunto nel sito e inoltre ho anche alcuni aggiornamenti sui piani futuri di OneMizer per le sue raccolte e le utilità per gli NFT. E prima di parlare di tutto quanto questo ragazzi come sempre bentornati a tutti e se potreste anche considerare l'iscrizione andatevano anche la campanella così non perdere altri video come questo così come tutto quanto il resto che pubblico sul canale sarebbe assolutamente fantastico. E questo video è in collaborazione con OneMizer quindi grazie mille al team e quindi cominciamo con un paio di informazioni base sull'artista stesso poiché è una parte importante del motivo per cui queste collezioni NFT hanno visto così tanto clamore. Quindi l'artista si fa chiamare OneMizer ed è uno dei motivi per cui si distingue è perché si era già fatto un nome e aveva già raggiunto il successo prima di iniziare a lavorare con gli NFT. E mentre OneMizer ha esposto le sue opere d'arte in alcune delle gallerie d'arte più prestigiose nel mondo nelle principali città come per esempio Parigi o Singapore o anche Dubai, Londra e New York non ha seguito un percorso tradizionale di un artista normale piuttosto ha iniziato come artista di strada e nel tempo ha ottenuto riconoscimenti per il suo stile appunto unico e dirompente. E possiamo anche vedere alcuni esempi della sua arte e di quello che crea appunto nella sua pagina Instagram dove ha più di 20.000 followers e una delle cose preferite appunto da fare per lui è prendere opere di grandi artisti come per esempio Chaos, Bansky o Jeff Koons e poi aggiungere appunto il suo stile unico a loro. E nel 2014 ha anche guadagnato il posto nelle Guinness dei Primati per aver creato la più grande opera d'arte 3D del mondo creata appunto a Dubai che attualmente sta svelando la sua mostra d'arte personale My Parisian Accent a Miami e possiamo avere un'idea anche della grande richiesta per opere d'arte di One Miser dando un'occhiata al sito dove dove sono disponibili alcuni dei suoi pezzi e come possiamo vedere vanno dai 1.000 dollari fino a circa 50.000 dollari o più. E come accennato in precedenza la prima collezione di NFT di One Miser è stata esaurita in soli 9 minuti e quella collezione era composta da soltanto 383 pezzi che furono rinnovati dal famoso editore d'arte Lazard Urbane e ogni stampa misura 70x50 cm ed ha un valore di circa 1.200 dollari per quelle meno rare ed ha 3.500 e 4.000 dollari per le più rare. Le stampe fisiche sono state collegate agli NFT della collezione attraverso la tecnologia sviluppata dal team di Secret e chiunque abbia acquistato un NFT dalla collezione ora può rivendicare la propria opera d'arte fisica e farsela spedire. E inoltre quando si esegue la scansione della stampa viene visualizzato un certificato di autenticità che è ovviamente una caratteristica molto interessante e quella tecnologia sta implementata anche nella seconda raccolta NFT di One Miser che sarà live il 17 di marzo e possiamo anche vedere che quella collezione appunto avrà un'atmosfera anni 90 ed ha un'opera d'arte anche raffigurante un Game Boy che è mostrato appunto in questa pagina e ci saranno anche 7 gradi di rarità per ogni NFT che corrisponderà anche ad una stampa fisica dell'opera d'arte per un valore di circa 1.500 dollari e sono state anche inoltre implementate nuove tecnologie che mostreranno anche le relative metriche per gli NFT quando verranno scannerizzati i dati specifici di ogni pezzo vengono registrati direttamente nei metadati dello smart contract per fungere davvero il proprio certificato di autenticità e ci sarà anche la possibilità di ordinare un certificato di autenticità con un ologramma dopo la scansione della stampa e un modo in cui questa raccolta sarà diversa appunto da quella precedente e che ci sarà anche una versione 3D e animata dell'NFT insieme appunto alla normale versione dell'immagine che penso che sia assolutamente strabignante e qualcos'altro su cui One Miser e il team di Secret hanno lavorato è la loro piattaforma di Gamify di sfida chiamata Crew 3 dove ci sono 10.000 dollari di premi in palio e questi prezzi includono opere d'arte di One Miser o cene in un ristorante stellato gift card per Amazon o StockX ai display di Pokémon e Booster dei Game Boy e molto molto altro ancora e qualcos'altro che sta arrivando in relazione al progetto è l'asta anche del dipinto originale di Lugia vandalizzato e questa asta inizierà il 7 di aprile e si svolgerà sulla piattaforma di Secret e ci sarà anche un nuovo e unico NFT creato per accompagnare il dipinto originale e la fine appunto dell'asta arriverà il 14 aprile all'evento VIP per i titolari appunto di NFT della prima collezione l'evento si svolge presso l'hotel a 5 stelle famose in tutto quanto il mondo le Fouquet Legacy Store a Parigi e l'evento è realizzato su misura per i titolari includere anche cibo, mixology, open bar una mostra personale di One Miser un DJ set da parte di Dan Genasia e altre apparizioni anche come ospiti speciali e la fine dell'asta sarà il culmine della serata e all'inizio anche di aprile si svolgerà anche una mostra d'arte di Secret a Lisbona presso Boa Lab dove presenteranno anche una mostra sul collegamento tra arte fisica e digitale che consisterà in uno speciale spettacolo di arte a luci e un viaggio anche interstellare nel Metaverse il che penso che sia assolutamente fantastico anche questo e sarà un'esperienza magnifica ci sarà anche un'arte neurogenerata ed un open bar e prezzo di ingresso di 500 dollari ma sarà gratuito per i possessori di NFT della collezione degli anni 90 ci sono anche altri due eventi degni di nota che si svolgono nel mese di aprile e quelli sono una venta privata e un airdrop la venta privata sarà disponibile solo per ritrovare di NFT di One Miser quindi se vi interessa dovete assicurarvi di avere un pezzo della collezione o delle sue collezioni se avrete anche un pezzo della prima e della seconda collezione sarete ricompensati con un airdrop di NFT della terza parte della collezione degli anni 90 e la collezione è stata pensata come un tripik che è un insieme di tre opere artistiche pensate per essere apprezzate insieme e se volete essere elegibili per quell'airdrop ma vi siete persi appunto la prima parte potete comunque sia ottenere uno dei pezzi su OpenSea e a prescindere appunto i prossimi due mesi saranno importanti per One Miser e chiunque sia coinvolto in queste collezioni perché hanno molto molto da fare penso che ne vedremo appunto delle belle quindi possiamo vedere qua per esempio la collezione di NFT per quanto riguarda la collezione di Lugia potete comprarne alcuno se volete farlo adesso stop un attimo il video vi spiego come partecipare alla giveaway per partecipare alla giveaway dovete semplicemente essere iscritti al canale e rispondere a questa domanda nella sezione dei commenti quando pensate che avremo la prossima Alcoin Season fatemi sapere nei commenti ed inviate anche il vostro portafoglio di Binance Smart Chain altrimenti non possiamo selezionarvi come vincitori è giusto per chiedere basta inviare il portafoglio soltanto una volta anche se rispondete a più domande e noi controlleremo l'indirizzo tramite lo storico dei commenti e quindi buona fortuna a tutti adesso continuiamo con il video ma se volete partecipare al meeting di domani e volete sapere di più su One Miser e il progetto potete farlo tramite il link in descrizione potete anche dare un'occhiata o donante prima anche della collezione che uscirà anche domani sul loro sito ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti e come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao a tutti